Sei alla ricerca di un luogo per tutta la famiglia? Dove divertirti e stare in forma? La Fenice è il centro sportivo perfetto per te. Da noi puoi praticare tantissime attività sportive. Nuoto, fitness, bodybuilding, kickboxing, danza, aerea e molto altro ancora. E per i più piccoli abbiamo un'ampia area dedicata al gioco sicuro e divertente. E la grande novità, il nostro nuovissimo campo da pickleball. Il nuovo sport che sta conquistando tutti già negli Stati Uniti più popolare del paddle. La Fenice, dove lo sport è divertimento. Ti aspettiamo in via San Leonardo 13 ad Alcamo.